Magari le vostre sono semplicemente più belle, perché sono i Cogito Studios I Cogito Studios Come state ragazzi? Bene, bene Beh intanto ciao a tutti, ciao a tutti quelli che stanno commentando Madonna mi sento un robot effettivamente con queste cuffie Perché sono così metallica? Perché sei un robot Metal, sì 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 Ma me lo dici così, scusa? Cioè così in live davanti a tutti mi metto a piacere Ciao, ciao a tutti Sì, non sono da sola Questi due individui non si sono persi Ma sono Corrado Polini Che avete già visto qui sui nostri canali Che è il fondatore della casa editrice Poliniani di Verona Oh yes E poi Mattia Martignago che è un nuovo ospite Che è uno scrittore, poeta, amante dell'horror come me E siamo qui oggi per introdurre un progetto molto interessante Sul quale stiamo collaborando Eh sì E quindi direi di far partire il trailer Giusto per dare un po' l'atmosfera Facciamo partire il trailer? Sì esatto Allora Ve lo faccio vedere qua a voi Oh grazie Perché effettivamente dico una cosa Ne Ari ne Mattia l'hanno visto Ah no? Surprise Allora intanto attivo qua l'audio desktop E ve lo faccio sentire anche a voi Che cute è la transizione Wow Hype Hype Molti anni fa su questa spiaggia Trovai i sei sassolini che sto per lasciare dentro a una scatolina rossa Cercala 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 Ti conviene Non sono comuni sassi Hanno una scatolina rossa Hanno la forma di una goccia Senti la voce di mia madre che chiamava dall'ombrellone In quel momento mi fermò un vecchio che stava pescando qualche scoglio più in là Mi sorrise Mi sorrise e chiuse la mia mano con la sua Parlò sottovoce Ti porteranno fortuna Se non dirai mai a nessuno di averli Mai Mi sorrise di nuovo Sono ancora convinto che sia stato lui a lasciarmeli Quando tornai a casa dalle vacanze Riposi i sassolini nel mio salvadanaio Mantenni il segreto Vent'anni dopo Ero al verde Un artista fallito Come chitarrista non volevo una cicca L'unica alternativa al morire di fame Era lavorare in fabbrica Sempre se qualcuno mi avesse assunto E solo l'idea mi dava il vomito Un giorno andai a trovare mia madre Dopo l'ennesimo colloquio di lavoro andato male Bisognoso di un abbraccio Mi sovvenne il vecchio pescatore Corsi in camera mia Il salvadanaio era ancora lì Al suo posto Lo ruppi Tra i cocci Spuntarono i sassolini Tornai alla spiaggia Senza sapere cosa fare Li disposi in ordine E alzai gli occhi al cielo Un'idea plausibile Il colore mancante era sempre stato sopra di me Tornai attento sui sassi Le punte indicavano il promontorio a nord Notai una croce Da quel giorno La mia vita cambiò Tuttavia Ora è giusto che la fortuna abbracci qualcun altro Bisogna essere coraggiosi però C'è un teschio alla base della croce Realizzerà tutti i tuoi sogni Ma ti chiederà qualcosa in cambio A me Chiese un indice E questo è il trailer Oh yes Boom Buia E come potete leggere C'è scritto crowdfunding Perché effettivamente è un libro Che faremo con l'aiuto di tutta la community E quindi è molto importante per noi Avere il vostro supporto E non vedo nel titolo Il 52 shot Adesso lo metto Ecco grazie E se fate punto esclamativo 52 shot Comparirà il link per il crowdfunding Dove potrete andare insomma E esplorare di più sui livelli Di questo nuovo libro Sul quale stiamo collaborando Io naturalmente come illustratrice Mattia come scrittore E Corrado come osservatore Inquietante Dietro le rocce Io il mio l'ho fatto Adesso basta Perfetto Puoi andare prego Grazie Arrivederci Arrivederci Bello il trailer Grazie Poi c'è un po' di confusione Molto spesso Su cosa è il crowdfunding Quindi se vuoi spiegarcelo tu Corrado Così lo spieghi anche a me Effettivamente No in due parole Perché in realtà Sono quelle cose che spesso Vengono date per scontate Cioè uno pensa a crowdfunding Pensa che ne so È la piattaforma più famosa Che appunto applicano Del crowdfunding Noi invece abbiamo scelto Un'altra cosa Anche in base all'esperienza Fatta col manga Che stiamo facendo In crowdfunding appunto Tra Morte Bianca E Marco Albiero Abbiamo scelto invece Di fare un crowdfunding All'interno delle piattaforme polignani Cioè raccogliere fondi Nel senso Il progetto si farà In qualunque caso Questo che io voglio dirlo A tutti quanti Perché spesso si pensa Che magari crowdfunding Sì ok Ma dopo sì O magari dono E poi dopo Il progetto si farà lo stesso Anche se non raggiungiamo il tetto Sì no E vi dico subito Che il progetto si farà Comunque Ma abbiamo voluto Fare un crowdfunding Perché Polignani Tra l'altro Ha sempre fatto Una prevendita No? Però volevamo spingere Un po' di più Cioè fare una Come una prevendita premium Ecco chiamiamola così Infatti Mattia e Ari qui presenti Fin dall'inizio Fin da mesi fa All'anno scorso Abbiamo cominciato a parlare Di questo progetto Ci siamo confrontati Per dire Ma cosa facciamo Lo chiamiamo crowdfunding O lo chiamiamo Prevendita premium E alla fine Abbiamo optato per i crowdfunding Perché era un termine Anche più conosciuto Però di fatto Non è molto differente Rispetto a quello Che già facevamo Con la prevendita Però la prevendita Di un libro E per esempio Con i racconti Della vera nuova carne Di Ari e Rick C'era un extra Che era il Il disegno La tavola Di sotto ce n'è uno C'è l'autografo Qui invece Volevamo dare un parco Di possibilità Molto più esteso Allora un crowdfunding Appunto Un parco divertimenti Horror E in questo caso Sì che tra l'altro Ci rientra anche un pochettino Questo effetto neon Complimenti Fede Grazie per il logo In sovraimpressione Di 52 Shot È atomico Bello Non l'ho fatto io Qualcuno l'ha fatto Ma chi è che l'ha fatto? Vedi l'unica cosa bella E non l'ho fatta io Però l'hai fatto io Tu che l'hai fatto comparire Sì esatto E come quando sono andato A dei miei amici rumeni Che loro si fanno Il vino fatto in casa Mi dissocio Già da Si fanno il vino fatto in casa L'unico vino Che i miei amici hanno assaggiato Era quello che hanno comprato E ho detto Che buono questo vino Questo l'ho comprato Ecco perfetto È stato molto bello Arrivederci a tutti Comunque mi piace Lo spam Violento Di Daily Cogito Con tutti i link Del crowdfunding In chat Ce ne sono tipo Sette di fila Mamma mia Che paura Sì in realtà Consiglio di andare sempre Su Polignani Slash 52 Shot Perché almeno lì Avete un panorama esteso Yes Sono otto premi No chiamiamoli così Otto step Che una persona può affrontare Ma lo vedremo secondo me Durante la live Oh yes Ci tengo a ringraziare Fin da subito Invece Gianluca Iacono Che si è reso disponibilissimo Per appunto Fare questa lettura Del racconto scritto da Mattia Che la cosa bella Del fare il lavoro Che faccio Secondo me Almeno dal mio punto di vista È proprio Rendere Coautoriale Ogni cosa Allora Voi non avete ancora visto Le illustrazioni Che Ari Sta Sta facendo Ne avete vista La parte di una Che è quella del trailer Perché L'abbiamo spezzettata Per riuscire a creare Una narrazione Però quello Di fatto È il disegno Che Ari Ha sviluppato Per il racconto Che per il racconto Che Mattia ha scritto Quindi c'è già Una coautorialità In questo Ma quando Gianluca Ha contribuito Con la sua voce A dare sostanza orale Diciamo così Al testo scritto Al testo illustrato E allora C'è come una Triade Potentissima E quindi Insomma Fare questo trailer Tra l'altro Anomolo Perché non è neanche un trailer È proprio Un video racconto Quasi un audiolibro Di video Un audio video racconto Un audio video racconto Ma infatti Mi piace tantissimo Come è venuta fuori L'atmosfera Proprio soltanto Basandosi sul suono Su questi elementi visuali Sono molto fiera Del teschio Posso dire Posso dire Di essere fiera Di come è venuto fuori il teschio Posso? Ah no? Ah non posso Flexo Flexo un pochino E oltretutto oggi Dato che Come sempre Il sabato chill Farò un'illustrazione Anche oggi Abbiamo deciso Di prenderci un po' più di tempo Quindi finiremo Intorno all'una e mezza Quindi potrete mangiare In compagnia Delle nostre voci E oggi Come l'una e mezza? Mi spiace Fede Devi mangiarti Questo disinfettante È molto gusto Non ho il cavallo Non il cavallo Sfilaccetti di cavallo Adesso arrivano Tutti i vegani E ci uccidono Ma a parte che il cavallo Non è fatto di carne Quindi vabbè Ah giusto È fatto di cavallo Esatto E quindi oggi Andrò a fare Un'illustrazione Ma il cavallo È un pollo Giusto? Quindi è carne bianca Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Oggi andrò a fare Un'illustrazione del libro Come cavallo Si chiama? Aspettate Il libro Ho scritto così tanti libri Che non so neanche Come si chiama Guarda tutta la lista No si chiama I've been waiting for you Il nome del racconto Ed è il ventesimo Il ventesimo racconto Di 52 shot Quindi Non mi ricordo più Come si fa Devo premere Cosa vuoi fare? Devo mostrare Per mostrare lo schermo Tipo Lo schermo? Di quello che sto Per disegnare No devi sbloccare E basta Lo schermo è basta Ma devo sbloccare Cioè? Ma in che senso? Cos'è che vuoi mostrare? Lo schermo Cioè voglio che ci sia Condividere lo schermo Basta che mi dici Che lo sblocchi lo schermo E lo metto io Esatto Posso mostrarlo? Sì certo Ok Ci sarà aperto chissà che cosa Ora c'è lo schermo Si vede? Sì Ok a posto Non c'entra niente Il bluetooth Perché di solito È acceso Ma è per la musica quella Però oggi non mettiamo la musica Adesso ho capito Adesso ho capito Io sono come sempre Techblin Quindi Ma mi amate per questo In fondo Intanto Mattia Raccontaci un po' Un po' di te E infatti Perché Sei venuto qui Chi sei? Chi sei? Gogu Raccontaci un po' di te Beh Sono un autore A cui piace scrivere Quasi sempre horror Però da più punti di vista Diciamo Non c'è solo Lo splatter Non c'è solo Il classico Il classico Mostro E c'è anche lo zio E c'è anche lo zio violento Ovvio E il cugino grafico Non dimentichiamo I 45 cugini grafici Che sono i peggio Che hanno anche la PS7 Che sono i villain Più villain del mondo E quindi Mi piace Mi piace andare un po' oltre Mi piace a volte Parlare Di quello che Chiamo Post horror Poi in realtà Non è altro che Ciò che succede dopo Di solito I film Finiscono Con la risoluzione Ma non si parla mai Delle vittime Diciamo Che Cosa pensano Come vivono poi Ok E questo è un livello Che mi piace sviluppare Mi piace sviluppare anche Il fatto che Può essere una persona Qualsiasi Senza appunto Nessun passato Disastroso alle spalle Semplicemente Vuole sperimentare Cioè Cosa Cosa provo io Diciamo Nel momento Di passaggio Tra la vita e la morte Cioè Quando Gli occhi Da Languidi Lucidi Terrorizzati Diventano Vitrei Questa è una cosa Che mi Mi piace molto Diciamo che ho preso Un po' spunto Da A Good Marriage Che è un racconto Di Stephen King Poi Di cui hanno fatto il film In cui praticamente È Una coppia normale Lui è un marito normale Con il lavoro Con i figli E poi la moglie Scopre che non è proprio così Ok Però lui È una persona normale E questo mi piace È un livello Che mi piace Sperimentare molto Ok Beh effettivamente È una prospettiva Che mi piacerebbe Vedere molto di più Anche Nel cinema E quindi Vederla Poterla vedere Invece in un fumetto Secondo me Deve essere una sfida Ancora più interessante E secondo te Quali possono essere Dei Degli elementi Importanti Per riuscire a narrare Questa storia qui Per Trasmettere Questo tipo di emozioni Questi traumi Cioè non è facile Io Dal mio punto di vista Mi piace Molto Scrivere In Al presente Ok In prima persona O Che si fa poco In seconda persona Ok Come se Fosse Rimasto Qualcosa Del serial killer Nella mente Di chi ha subito E che gli parli Certo E parlando Quasi sempre Al presente Riesco a creare Dei flussi Di pensiero Frasi spezzate Corte Senza verbo Anche Frasi Con una parola sola Sì Che renda Proprio la confusione Sì Del Sì Di ciò che succede Dopo il trauma Fisico Effettivo Magari Di un Che uno è stato Qualche mese O qualche settimana Insomma Nelle mani Sì 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 Di qualche personaggio Poco raccomandabile Trasmette proprio La violenza Dell'atto Della morte Questo Questo modo Di scrivere Così spezzettato Che poi è quello Che porti anche In 52 shot E si chiama così Perché Sia è uno shottino Che tipo ti fa sbarellare Sia shot Come lo sparo Che non ti aspettavi E quindi è molto figo E molto viscerale Il modo in cui scrivi tu Grazie Confermo 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 E quindi adesso tu Ari Adesso che cosa stai facendo Sto facendo un'armatura Ok Adesso è molto fumoso Dello zio violento Esatto Famoso zio violento Esatto Dovremmo pur rappresentarlo Prima o poi Esatto Che è un'armatura medievale Sempre in casa Che tiene d'occhio i vini Oltretutto Esatto Però effettivamente è quello È un elemento visuale Che mi ha particolarmente colpito Immaginarmi questa Questa armatura così possente E dietro i vini Mi fa Mi fa molto Strano Come Come contrasto Sì Secondo me anche Anche Il fatto di Illustrare Dei racconti Così corti Ti dà La dimensione Di trovare subito Quali sono gli elementi Visuali Importanti All'interno della narrazione E quindi appena Leggo Un tuo racconto Io capisco subito Qual è la direzione Dove voglio andare Se voglio che sia Un paesaggio Oppure un ritratto Oppure In questo caso Una figura Che però Non è né Paesaggio Né ritratto È proprio Un'inquadratura Interessante Che Che dà L'idea E il tono Del racconto Certo Anche perché Questi 52 shot Sono racconti Da 1985 Battute L'uno No Potevi fare 1984 Eh ma 1985 È il mio anno Di nascita Volevo dire Ah allora Vabbè ok Sei perdonato E poi è uscito anche Hella Wait Gli Slayer Per cui Cavolo Ok è tutto un tratto Cambiato completamente Ecco vai fuori Capra Capra Cavole Dell'85 Sì Porca miseria Sono vecchio proprio No no L'album Porca miseria Cioè ormai Matti No basta Si è sentito offeso Dalla tua Anzianità Ormai Non c'è più rispetto Esatto Prossimi alla pensione Guarda tranquillo Io sono del 43 Quindi ti posso capire 2043 2043 Sei un post human Esatto Un post boomer Grande Bellissimo Post boomer Quali possono essere I post boomer Beh secondo me I post boomer Potrebbero essere Le generazioni di adesso Quindi la gen Z Esatto Tipo nel 2050 Eh sì Perché nei tempi Quando avevamo il 5G Eravamo costretti A vederci porno In 4K Non in realtà virtuale Con tutte queste sensazioni vere Infatti non mi sono mai sposato Mi dissocio Mi dissocio Ma che bella questa cosa Dire qualsiasi cosa E poi mi dissocio È goliardico Ma io lo faccio sempre Facile Sì sì Io lo faccio sempre Quando qualcuno mi sta antipatico Io poi vado in un angolo Magari L'ho coltello No no Fede mi dissocio E poi quando viene la polizia Dico io mi dissocio Ah ok Tutto a posto Prego Vado avanti Esatto O quando rubo le banche Quando Ma tu rubo le banche interesse Fede è un suo canale No non è vero Ma io verrei più spesso Qui presso il Cogito Studio Secondo te come ci siamo pagati Tutta stessa Oh così mi piace Così mi piace Rick Abbiamo bisogno di tutto No vieni a prelevare Fede Ti prego Fate anche il traffico di ordini No Mi dissocio Mi dissocio Scusate Si dice origami Ah traffico di origami Di origano Ma non è più un mercato Tanto redditizio No Quello del timo va un po' meglio Sì 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 Eh sì Piantagioni di timo Ma allora Io avrei un paio di cose Da chiederti Matthew Va bene Matthew McConaughey Matthew McConaughey Allora Allora Vabbè allora Non volevo parlare Della tua età Perché certe cose Non si chiedono Invece giustamente A una signora Non si chiedono Federica 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 è andato subito Al punto Ho capito Federica Federica Tu sei in entanto È questa Federica Non sei mancino Ti piace Me la presenti poi Io mi concentro Sulla immagine Fede Mi presenti la Fede Poi Cosa dice Avance Poderose In diretta Allora Non c'è lo stacchetto Pubblicità No mi spiace La pubblicità Non ci può salvare Allora Prima hai nominato Stefano Re Sì Chiaramente immagino Che tutti quelli Che ci stanno seguendo Conoscano Di Riffa o di Raffa Stephen King Certo Stephen Stephen Ti dicevo Ma chi è Stephen O'Re Non lo conosco Stephen King In quale maniera Se lo ha fatto Ti ha segnato Cioè perché Per te L'autore Horror Top Allora Poi parleremo anche di cos'è l'horror per Mattia Il top Sicuramente lo è Sicuramente ho letto Tutto quello che ha pubblicato E che è trovabile cartaceo Tranne Un piccolo Una piccola raccolta di storie Che ha pubblicato Per una piccola cerchia Di persone Quindi O Trovo un sicario Mi dissocio E Così E Però Tutto a posto Tranquillo Tutto a posto Stiamo Stiamo parlando di horror Cioè come faccio Non dirlo E Tutto è cominciato Nel lontanissimo 1991 Ok Avevo sei anni dunque E uscì Il La miniserie It Io ero E me la ricordo Ben bene Perché ero a casa Dei miei cugini Come ogni domenica Che ci si trova Dalla Dalla Mater Familias Tutti i cugini E io A sei anni Che bello Un film con i pagliacci Sì Traumatizzato Come Tanti Nati Tra l'ottanta Tre Ottanta Quattro E il Novanta Più o meno Ci siamo Diciamo una generazione Di traumatizzati Da quel Da quel film Confermire La cosa bella È che Tim Curry Che è Hit Ha Spaventato E terrorizzato Così tante persone Comparendo Sei minuti In tre ore di film Pazzesco Solo sei minuti Sei minuti Ha battuto Anche praticamente Hannibal Lecter Per sei minuti Quindi Anche se è considerato Non dico un B-movie Penso anche Z-movie Visto il budget Che ci sarà stato I colori La fotografia Meravigliosa Però L'impianto registrico Niente male Però la musica Rende tanto Ci sono delle Sono delle belle cose Ma tornando alla domanda Poi ho passato Degli anni A avere delle problematiche A tipo Entrare in doccia Senza pensare Al pagliaccio Che mi esce Dallo scarico E tante cose simili Al che Circa una quindicina Di anni fa Mi sono comprato Il libro Quelle 1300 pagine Easy Easy E niente Sono successe due cose Praticamente La prima Ho sconfitto La mia paura Stando a 5 metri Dai personaggi Perché King è bravo A fare questa cosa qui E poi Ho voluto Ho voluto Far rivivere I personaggi Quei personaggi lì Soprattutto Il club dei perdenti Come volevo io Ovviamente Era una prima Forma Un po' Rozza Di scrittura Diciamo Come se avessi Avuto una pietra Su un muro Tipo su una caverna Mettiamola così Però Quello che è successo È che ho provato Del piacere mentale Proprio A far muovere A mio piacimento I personaggi E da lì È nato tutto Fantastico È nata La voglia di Comprendermi Come persona Quindi Tutto Il discorso Delle poesie Che ho pubblicato Con voi Alle porte del grigio La raccolta E poi E poi c'è l'horror Poi c'è Questi mostri Che mi vengono in mente Che il terrore Di vedere sbuccare Qualcosa Dalla doccia Sia una cosa Molto comune Perché Anche per me Era così Non con it Però Con slot Dei goonies Ah beh Oh ma Guarda che i goonies Lo ricordo Lo ricordo Come un film horror Quello Non me lo ricordo I goonies Non si devono Tocca Eh mi spiace Però slot davvero Ogni volta Perché io Ho nella cucina Poi le scale E un corridoio Abbastanza lungo Che porta al bagno E ogni volta Che andavo Su per le scale Vedevo la porta Aperta Dato che La doccia Era proprio lì Io tipo Ero pietrificata Non riuscivo A entrare in bagno Perché me l'aspettavo Che sbucasse letteralmente fuori Mamma mia che ansia Ma sono le più belle Domeniche e sera Del mondo Quelle di terrore No Non penso proprio Tu hai avuto qualche Personaggio Che ti ha traumatizzato No Allora traumatizzato Traumatizzato Sì E non Nessun mio zio No Ma perché Ma nessuno Qui che ha uno zio Ne ho Ma nessuno Grazie a Dio Mi ha traumatizzato Non per quello Per altre cose Eh Attenzione Attenzione No Devo dire Io ricordo distintamente Che avrò avuto Credo Intorno agli otto anni C'era di più Prescai Sì E mi vicini di casa Con cui avevo degli ottimi rapporti Un giorno Andai a casa A casa loro Per chiamare il mio amico Per andare a giocare A calcio Diciamo In strada Certo Anche tu l'hai fatto Sì ma non vengo dalla Sud America No Mi dissocio dalla Sud America Mi dissocio Mi dissocio Del fatto di dissociarmi E E ricordo Distintamente che Il fratello di questo mio amico Che era È dell'87 Aveva già visto It Furbo Cosa ha fatto Disse al mio amico Al mio amico Simone Vai Ad alzare il volume Ma lui sapeva già Che in quel momento C'era il primo piano Dei denti No E questo nemico qua Si è trovato davanti A questa immagine Mi ricordo che è scappato A gambe levate Io invece Ero sul divano E sono rimasto Pietrificato Facendo il duro Perché ero addirittura A sette anni Con la lacrimuccia Era la scena In cui lui dice Ci vediamo nei tuoi incubi E poi torna giù Bello Che bravo amico E io ricordo Quell'immagine Me la son portata dietro Per moltissimi anni Poi a un certo punto Nell'adolescenza Ho voluto rievocare Appunto questa paura Perché sembra una cosa idiota E ricordo Distintamente Uno spettacolo di Panariello Dei primi 2000 In cui Parla dell'horror E lo fa in maniera comica Ovviamente Però diceva E i regiisti horror Con questo tono lo dice I regiisti horror Fanno i film Per esorcizzare Le loro paure E lui dice Per esorcizzare Le tue paure Mi devi far cacare sotto a me Che dopo la notte Non posso camminare In giro tranquillo Che mi spavento È un circolo vizioso Questo Non va bene Precisamente E io ricordo Che anche alla luce Di questa parola Di Panariello Che mi era rimasta Nella testa Mi guardai It E per capire Se effettivamente Quella era Un'unica immagine Che mi aveva traumatizzato O no Perché poi vedi anche Il secondo Chiaramente capitolo Del film E ricordo che Invece quello Era molto più blando Ma forse Anche perché Ero giovane Riguardandolo A distanza di anni Invece Ho notato che La seconda parte È quella Che mi ha Attratto di più Diciamo Attratto E mi ha anche evocato Delle emozioni Più forti Perché appunto Una cosa Quando si è Giovani Il famoso Colpo di scena Su cui ormai Tutti gli horror Fanno Ahimè Troppo Come dire Troppa fede Troppo a me Sul controcampo Sul Oddio Fede Possiamo buttarlo fuori È arrivata dopo Mi piace l'incazzatura Che si è caricata Piano piano Vado avanti Adesso mi sono Anche dimenticato Stavamo parlando Di campi Controcampi Effetti audio Forti Che ti devono colpire Poi in realtà Una volta Che Una volta A quell'effetto Uno fa Diciamo così Il callo Oppure Con la grammatica Di un film horror Lo decodifichi Si Perde di effetto Perde di effetto E quindi L'horror Non è più Horror Cioè non crea più Quel senso di suspense Di inquietudine Di E dopo qui Voglio rilasciarmi Ad un punto Perché È importante In quel senso Appunto Di Brivido Si Perché il brivido Arriva da altre cose Nel capitolo Io vedo proprio Che in It Quello appunto Degli anni 90 I due capitoli Sono fatti In maniera Per colpire Giustamente Anche Il primo In maniera Più giovane Perché I nostri protagonisti Sono dei bambini Si E dopo invece Il film Utilizza la grammatica Per adulti E sta cosa qui Quindi A parte Low budget Eccetera Però è stata Pensata bene Già Assolutamente Già per l'epoca Poi vabbè Comunque Quegli anni Steven Spielberg Andava alla grande E quindi Questo narrare I bambini Io ho trovato Una manovra Geniale L'esperienza L'ho scoperta Diciamo che Se tu Fai un film Basato su Una storia Scritta da Stephen King I cui protagonisti Sono ragazzini Vai liscio Nel senso che Come autore Lui Come fascia La fascia prepuberale Diciamo Lui Secondo me È il migliore In assoluto Ma Spielberg È quello che ha fatto It quindi Come regista Sì No non credo No 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 Però C'è come Che è contemporaneo A questo periodo qua Esattamente Quindi Spielberg Lo riconosce subito Perché Utilizza Ha inventato Proprio l'avventura Dei ragazzi Fondamentalmente In maniera Spettacolare Perché lui ha fatto It No ha fatto IT Per esempio Che è un altro film Che mi ha traumatizzato Che non dovrebbe traumatizzare Però Madonna L'alieno fa davvero Alieno senza cellulare Perché ai nostri tempi Esatto Non c'era il telefonino E T Boomer Dovevamo chiamare a casa E rispondeva Il papà Della tipa Come vera Federico non risponde Perché IT non l'ha visto Ovviamente L'ho diretto io Ho diretto La fotografia di merda L'hai diretto Edi Colon Esatto Prego Io me ne vado No me ne vado Io me ne vado Io me ne vado Ce ne andiamo noi Allora lo lasciamo qui Blatterare Blatterare Guardate Non se ne aspettava nessuno Diretto Edi Colon Ragazzi Io mi dissocio Dal mio editore Anch'io Anch'io assolutamente Lo facciamo noi due Il progetto Lo lasciamo poi Lui non è il mio editore Quindi posso dire Pezzo di me Lo possono dire anche gli autori Pezzo di menta Pezzo di menta Perché non si dicono le parolacce Perché sono balsamico Ma Basta Continua Secondo me vuole proprio Che ce ne andiamo Con il nostro progetto Lo ubriamo O forse vuole fare da cavia Per il prossimo racconto Per il prossimo zio Potrebbe succedere Attenzione No Saranno i cogito Io dico sempre Quando entro qui Oppure Quella brutta persona laggiù Che È la mia aria Sì Torniamo a noi Meglio Parlavamo di Horror Sì Allora Horror Penso che sia abbastanza chiaro Arriva da Orrore Sì No davvero Dal latino Shock Shock Dal latino shock Dal latino horror Tutto ciò che fa rizzare i peli Horror Esatto Che fa rizzare i peli Questo Senso Perché tu comunque poi hai fatto Sentite Federico Come ride sotto i baffi Quali peli Quali peli No mi immagino che Quando Che magari hanno sbagliato A scrivere una lettera Che non era peli No I pali Esatto I pali Esatto I pali I pen Ma quindi Mona Pozzi Faceva horror Esatto Pazzesco Non lo sapevo Cosa non si impara Quante rivelazioni Quante rivelazioni Quanta scuola oggi Ari È bello che mezz'ora fa Parlavamo di governo Parlavamo di Brunetta Scusami se è meglio parlare di queste cose Che non di Brunetta Detta fra noi Questo è il rassegnato stampa greve Esatto Il greve stampa Quindi questo senso del brivido Del far rizzare i peli Fino a che punto Tu lo cerchi volutamente Quando scrivi Oppure In realtà ormai Non lo so A parole tue A parole mie A parole mie Non ci sono parole Perché non sono capace di parlare Non hai finito la domanda Hai capito No dai scherzo Ho capito dove vuoi mirare Beh dipende sempre dall'ispirazione E da cosa voglio Cioè Dal soggetto Con cui voglio Avere a che fare Mentre scrivo Perché come dicevo prima Se è un post horror Ok Quindi tutto ciò che succede poi La cosa interessante Non è tanto far paura Ma far provare angoscia Per quello che è successo Dando magari dei piccoli cenni E poi facendo riempire i buchi Diciamo Da chi legge Se è abituato ad essere un lettore attivo Naturalmente Questo è il presupposto anche di 52 shot Certo Essendo racconti brevi 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 Io do piccoli cenni Ma non posso dirti tutto Assolutamente Quindi tu lasci molto spazio Spazio di immaginazione Spazio Quindi molto spazio di immaginazione Certo Certo Questo Non potrei fare altrimenti Visto Il numero ridotto di battute Ma secondo me È proprio questo il bello dell'horror Cioè che in realtà Il lettore è molto spesso Più il creatore delle sue paure Rispetto allo scrittore Cioè lo scrittore Imposta L'ambientazione L'atmosfera E poi Sulla base del non detto Fra le righe Il lettore ci legge Le sue paure più grandi Quindi è anche per questo Che io amo illustrare Non dando subito L'inquadratura del mostro Oppure dell'assassino Oppure mostrare L'immagine brutale Certo Più che altro dare L'impostazione di dove ti trovi Qual è l'orizzonte Che stai vedendo Perché poi Il lettore Ci Lo riempie Con tutte le sue cose Con tutti I suoi traumi Con le sue paure Il suo passato La sua esperienza Certamente Che secondo me È una tendenza Che in realtà Si sta evolvendo adesso Perché se guardi La letteratura horror Tipo dopo gli anni Sessanta Settanta Ottanta Anche prendendo It Erano molto più esplicativi Secondo me Cioè It ci sono interi Più grafici Se tu guardi It Per esempio C'è la spiegazione Di ogni singolo ragazzino E c'è Veramente Una spiegazione assurda Di ogni persona Invece adesso C'è tanto più show Don't tell Quindi secondo me Adesso è un periodo Dove si sperimenta Ancora di più Questa cosa qui Questa cosa di lasciare Ancora più spazio Di immaginazione Ma si è anche imparata A conoscere Secondo me Eh sì Certo Perché poi Opera aperta Opera di Echo Penso che sia qualcosa Che è uscita Lui abbia pensato Intorno agli anni Ottanta Quindi il discorso Proprio del Lasciare un'opera Aperta nel concetto Di Ti do delle indicazioni Ti do degli argini Ma dopo il fiume Voglio mostrare Che Non sono In questo momento Sembra un Power Ranger La mia illustrazione Morte Beh Depressione Trasformazione Fino Mi piacerebbe tanto Vedere tipo il Power Ranger Tutti che Che sono super mega Gasati Che vanno Poi Depressione È lui Depressione Ragazzi Meraviglioso Scusa Ti hai tornato Depression Stavo giusto guardando Il Cavaliere Mascarato 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 Quello è un altro Mio caro Tu dicevi Il Cavaliere Mascarato Mi consente Intendevi lui Mi consente E anche lui È un bel personaggio Perché ha un bel po' Di mascara Il Cavaliere Mascarato A suo tempo Ha fatto venire Brividi a molte persone Con il suo fondotinta Ha rizzato anche Peli Guarda Infatti Ari Tu prima hai anticipato Un pochettino La stessa cosa Quello vuoi chiedere Che ho chiesto a Mattia Un pochettino Anche con te Nel senso Questo senso di inquietudine Da creare Non è banale Non è veramente banale Ci sono altri modi Naturalmente Siamo sempre Parte Sempre comunque È tutto in base Al focus Della storia Certo Si può Cioè quello che mi piace fare Per esempio Quando mi invento Un mostro nuovo Oltre alla descrizione Breve Di quello Dei superpoteri Diciamo Chiamiamoli così Ecco Un nuovo mostro Mi piace ambientarlo In un ambiente normale Nella quotidianità Nella quotidianità Ne troverete Qualcuno Anche in 52 shot Uno è già stato pensato Gli altri due Sono qui nella mia testa Che Fanno cose Che non posso dirvi Perché altrimenti Si dissociano tutti E non finiamo più E quindi L'orrore qua Sta nel fatto Che In una famiglia Normale Per esempio Si può immettere Questo personaggio Quindi che Tra virgolette Violenta Deflora La quotidianità L'intimità Ciao Matteo Non ho detto È un verbo Ragazzi L'intimità Della famiglia Quindi delle mura domestiche E le inquina Ok Un altro modo Ovviamente È il È il modo Un po' più teatrale Chiamiamolo Quello proprio Della scena Splatter Quello che Quello che Non mi piace fare Mentre descrivo Una scena Splatter È che il protagonista Sia un super mostro Quello non Non mi importa Perché È già stato fatto Per decadi Basti guardare Insomma I vari Freddy Krueger Leatherface E quant'altro Tornando A un discorso Iniziale Mi piace Impostare Il tutto Come Good marriage Mi piace Che Nella normalità Sì Avvenga La teatralità Del sangue Ovvero Sì Delle cose Che Sono plausibili Sì Però Speriamo Che nessuno Le faccia mai Insomma A me Per illustrare L'horror Piace Dare Sfugo Alle cose Che fanno paura A me In primo luogo Cioè Per esempio Per L'illustrazione Che sto facendo Adesso Io Ho pensato Alla racconto Che mi hai mandato Che ritrae Questa situazione Ho pensato Qual è la situazione Che Mi metterebbe Più angoscia Ed è proprio Quando entro In cantina E vedo Quest'armatura Finché non alzi La Com'è che si chiama Il frontino Insomma La visiera Finché non alzi La visiera Non sai se c'è dentro Un mostro Se c'è dentro Uno scheletro Se c'è dentro Niente È proprio il gatto Di Schrödinger Però in realtà È il cavaliere Di Schrödinger E quindi Questo Questa Incertezza Questo dubbio Della situazione In cui sei Che potresti essere Totalmente al sicuro Così come potresti essere Lì lì Per essere Aggredita È una cosa Che mi inquieta Tantissimo Assieme anche Al sublime Per questo Che mi piace Che ho fatto L'illustrazione Per il trailer Con tutto Quello spiazzo Con le nuvole Che si vedevano Con il mare Questa bellissima natura Che ti dà L'idea di quanto Insignificante sei Quindi la sovrastazione Della natura E per queste Illustrazioni Io mi Mi ispiro A un maestro Che è Stephen Gammel Che ha illustrato Scary stories To tell in the dark Che oltretutto Ha portato al cinema Guillermo del Toro Un paio di anni fa Il suo prodotto Non mi è tanto piaciuto Quello di Guillermo del Toro Perché secondo me Lì mostrava un po' troppo Però Poi mi sono andata A recuperarmi Il libretto Che è Una raccolta Di storie Degli anni 80 E ci sono queste Illustrazioni A querellate O a matita Che hanno poco contrasto E che quindi ti fanno Giusto intravedere Le forme Che mi piacciono tantissime Ed è per questo Che sto adottando Anche questo stile Che è molto diverso Dai racconti Della vera nuova carne Che invece era Molto più graffiato Più punk Insomma Ecco Quindi sì La paura È importante Da inserire All'interno Delle illustrazioni Partendo da ciò Che sento io Come ciò Che mi terrorizza Di più La verità Cioè raccontare Se stessi Senza bugie È una delle basi Penso di una Qualsiasi forma D'arte In scrittura Avviene Cioè funziona Di più Una storia Scritta Raccontando la verità Su se stessi Certo Naturalmente Quando scrivo Di splatter Ovviamente Non racconto La verità Su ciò che faccio Spero che sia chiaro Perché faccio Di peggio Ma non posso scriverlo Se no poi pensano Ma cosa fa Questo qui E Per questo che tu hai Sempre le mani sotto il tavolo Perché a te sei manettato C'è un carabiniere Qua fuori Che ci sta aspettando E no Perché ha una pistola Puntata sotto A se stesso Tipo Esatto Bellissimo Si vuole poi Impaurire da sola Che pistolone Mattia Da questo punto Dissociati Dissociati Cosa vuoi che ti faccia Da questo punto di vista Mi ha incuriosito molto Quando parlavi Della questione del mostro La parola mostro Si perché Villain Non mi piace Infatti La parola mostro È molto specifica E Villain È anche molto specifica Non sono esattamente La stessa cosa E oltre mostro C'è la questione Del familiarità No Mi hai fatto venire in mente Due cose E dopo ti faccio Una domanda Più specifica Non so se l'avete visto Ma c'è un bel film Con Nicolas Cage Che si intitola 8 millimetri 8 millimetri La luce rosse Assassino Luce rosse Insomma una cosa così Mistero Luce rosse Comunque è un film Senza fare spoiler Praticamente c'è una persona Completamente Inaspettata Su cui Che muore La moglie Vuole investire Su di lui Perché Nell'eretà Trovano anche un filmino Che riprende Delle cose un po' strane E vuole sapere Se questa cosa Qui è autentica o no Delitto a luci rosse Ed è estremamente interessante Però appunto Sull'inaspettabilità Della persona Che dopo può avere Un background In quel caso lì Ha limite Fra il sessuale E il Appunto Il violento Nel senso Dell'omicida Come se le pulsioni Si assomigliassero È molto interessante Molto affascinante E quindi Ecco Ecco Quello è un po' Il punto Che mi hai fatto Intorno a quale Mi piacerebbe Fare una conversazione Continua con te E cosa ne pensi Tutti I più grandi Casi Di cronaca Anche Terremendi Di italiani Penso al mostro Di Firenze Penso a quello Di Chiara Gambirasi Di cui Soprattutto Ultimamente Si sta parlando Di nuovo Tanto Anche su YouTube Ci sono tante Inchieste Un neogiornalismo Che si sta Dedicando a ciò E appunto C'è sempre La parola Mostro Che torna Domanda uno Secondo te E anche secondo me Chiaramente tu Quello che chiedo Matti Ari È chiaramente rivolto Perché si usa La parola Mostro Anche nel giornalismo Qual è Il limite Se c'è Tra il mondo Della finzione E il mondo Della realtà E Quanto Se ti accade Fai tuo Il mondo Reale Di cronaca Tremendo Così com'è Per poi dopo Renderlo Anche tuo E quindi Artisticamente tuo Ok Partiamo dalla tre Scelgo la tre Scelgo la tre Non mi baso Quasi mai Su fatti di cronaca Mi piace Trovare Magari Per ambientare Meglio Per rendere più Realistico Il mio racconto O il mio romanzo In base a ciò Che sto scrivendo Mi piace Contestualizzare Quindi magari Può esserci Purtroppo Un deragliamento Di un treno Ok Come un Un attentato Ma non mi interessa L'attentato in sé O il deragliamento È per Far entrare Chi legge In un In un universo In un universo Narrativo Plausibile Mi serve solo Come porta Non mi In realtà Del Mostro di Firenze O chi che sia Non mi piace Averci a che fare Proprio perché Non si muoverebbero Come vorrei io Non è controllo Su di loro I miei mostri Che si chiamano Mostri Semplicemente Perché Secondo me Chiamare uomo Una persona simile Mostro è Finzione Quindi È come se In qualche modo Ti allontanassi Dal mostro di Firenze Mi capisci? Sì Cioè Non può essere L'ho visto Al telegiornale Il telegiornale L'ho visto Alla televisione È un mostro Non esiste Non può arrivare qui Capito Secondo me È proprio Interessantissima Sta cosa Da una paura Dell'essere umano Di leggere Una persona Come lui Che fa Delle cose Indicibili E dire Anche questa È una persona Come me Questa cosa Secondo me È insopportabile Per i lettori E quindi Si crea Questa barriera Si crea Questa patina Dicendo mostro Per appunto Come dice Mattia Allontanare Quell'individuo Il più lontano possibile Da me Da ciò che Io mi definisco Come essere umano Perché alla fine Se metti a fianco Un omicida E un non omicida Sono entrambi Esseri umani E questa cosa Però Elaborarla È davvero difficile Perché Ti spaventa Di quello Di cui potresti Essere capace Tu stesso Un giorno E quindi Per allontanare Questo pensiero Si usa la parola Mostro In questo senso qua Il concetto Anche di Di meme No? Che lavorano tantissimo Sul Sullo scherzare Sul prendere in giro E tu Anche spesso Nascondendosi Di trondito Della satira Sì No vabbè E sarebbe sbagliato Non ironizzare Su questo tema E sarebbe sbagliato Non prenderlo in giro Insomma Che opinione avete A riguardo Nel senso L'horror Per come lo stiamo Intendendo qua Ha in realtà Il concetto Anche Finzionesco Di prendersi Assolutamente Sul serio Io infatti Quando scrivo Non sempre Ma tratto I temi forti Di questi anni Possono essere L'omofobia Il body shaming Il razzismo Io li tratto Ma I miei racconti Non saranno Mai dei saggi Per dimostrare Quanto sia sbagliato Io Come in arancia Meccanica Ti faccio vedere La violenza Te la faccio Masticare Te la faccio annusare Perché In scrittura L'elemento Olfattivo A me piace E quindi Spero sempre Tra virgolette Di non essere Mai Censurato Perché Naturalmente Se il mio Se il mio Mostro In questo caso Parliamo proprio Di mostro È un omofobo La sua vittima Non la chiamerà Fiorellino di campo Certo La chiamerà Con i termini Politicamente scorretti Che conosciamo E io spero Che Nessuno mai Venga magari A criticarmi A dirmi Ma tu usi Io non potrei Non usare Certi termini Perché Non sarebbe credibile Poi la narrazione Ma oltre a quello Se io Devo farti capire La 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 brutalità Giusto Del Del fatto Io devo essere Il più vero possibile Ecco che ritorna La verità Sono d'accordo Sì Dal mio punto di vista Sì L'arte Va presa sul serio Non è Insomma Va presa sul serio Perché Mi ricordo Una citazione Che Riporta anche Rick Ogni tanto Che Le opere d'arte Sono segnali D'avvertimento In un campo minato È per questo Che vanno Prese Sul serio Perché Sono segnali Che anche se Non fanno riferimento Alla realtà Che ti circonda Quella fisica Che stai vivendo Sono segnali Che ti insegnano A interpretare Il mondo E tutte le sue Sfaccettature In tutte Le sue possibilità Quindi anche Le cose che non stai vivendo Che ti serviranno Per un domani Quindi Secondo me Il problema Del meme È che spesso Viene trattato Come Metodo Di informazione E Quando in realtà È un mezzo Troppo semplice Per poter essere Di informazione È fatto per Sì Allontanare Certi Certe situazioni Della realtà Che non vorresti Che non vorresti affrontare In realtà Può essere utilizzato Secondo voi Come White Rabbit Cioè nel senso Ti parlo Di una roba tremenda Lo trasformo In comico In un'immagine Comica Per poi dopo Traslarti In un approfondimento In realtà Dai toni seri Secondo me Questa sarebbe La possibilità migliore Che A cui il meme Potrebbe ambire Però Per come sta venendo usato Oggi La vedo molto dura Beh Sì Dipende sempre Ogni cosa Può essere usata In modo intelligente O no Di conseguenza Con ogni mezzo Si può fare Si può fare Si possono fare cose intelligenti Si possono fare Cose idiote Certo E quindi Io posso prendere In giro O qualche Non so Faccio un esempio I portatori di disabilità E sono un pirla Mentre in realtà Se riesco Con l'intelligenza A fare un meme Che porti a riflettere Su questo Allora si ci sta Certo Oppure Posso fare dei meme Autoironici Che riguardano me stesso A me piace usare Questa Questa cosa qui Per esempio Come Anche per parlare di me A chi A chi mi segue Magari Certo Ci sono varie 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 forme Non è detto che bisogna Per forza Cadere nel black humor Che personalmente Mi piace Tra l'altro Non è che lo Poi dipende sempre Dai vari livelli Insomma C'è sempre C'è sempre Un limite Però insomma Ogni cosa La si può usare Prima hai toccato Un tema interessante Da questo punto di vista Della censura Un tema attualissimo Dove su internet Bisogna Muoversi In punta di piedi Infatti per ora Mi reputo fortunato Ecco Hai mai avuto In realtà Dei feedback Oppure delle censure Perché poi tu Su Instagram Per chi non Non seguo ancora La tua pagina Andate a seguirla Scrivi quotidianamente O quasi Insomma Abbastanza spesso Dei racconti Or Sì Riassuntivissimi Questi micro slide Però sono forti Sì Allora Nei messaggi Nei commenti Scusa Raramente Raramente Mi è capitato Su qualche racconto Ma insomma Ne ho scritti Penso più di 500 Ad oggi Per cui Mi è andata bene Messaggi privati Ecco già di più Magari Perché Già scrivere un commento Uno si espone Ok E già E già È una cosa È un passo È un passo Mentre Messaggio privato È vero che posso Screenshotarlo Fare quello che voglio Però C'è un po' di Uno si sente più Al sicuro Mettiamola così E là Mi è capitato Qualche Qualche messaggio Tipo Che razza di persona Sei dalle foto Ho visto che sei Anche padre di famiglia Diciamolo una volta Per tutte Un artista Non è Ciò Che Fa Scrive Disegna Punta Si è messo Agli atti Esatto Bene Sennò Ari sarebbe Un Power Ranger Depresso Giusto? Giustamente Quello che sono Che vi sto mostrando Il mio autoritratto Power Ranger Shaming Power Ranger Shaming Esatto Depression Power Ranger Hai appena discriminato I Power Ranger Adesso ti arriveranno Nella sezione Belle querele Esatto Ma non vedo l'ora Perché li odio I Power Ranger Io guardavo Le tartarughe ninja Quando voglio ancora Ai miei tempi Le tartarughe ninja Prendo l'occasione Per dire che Il miglior film Sulla tartarughe ninja È quello tipo Del 92 94 Quelli di plasticona No 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 Tutt'altro Dei costumi bellissimi Che poi da allora Siamo andati Alla deriva Non l'ho visto Apri chiudo la predesi È uno splinter E uno schroder Ragazzi Alta scuola È bellissimo Lo fai solo su Instagram A livello social Sì Perché Nel senso Allora Sto ragionando Per esempio Mi manca Twitter Ok Però Non aprire Quello Twitter Però sappiamo Tutti quanti Che diciamo Certi tipi Di attività Social Alla quale Non ci si autosottrae Cioè nel commento È proprio Accadere proprio Su Facebook Su Instagram Ma proprio per un DNA Del social stesso Che è Tempestivo Cioè devo passare Veloce delle immagini Addirittura dare un cuoricino Se Il contenuto Mi aggrada Visivamente Tu già fai una cosa Anomala Perché tu scrivi dei testi Quindi già lì Uno deve Fare un click in più Per di più Esporsi con un commento Come dici Non è banalissimo Su Facebook Invece L'atteggiamento Del pubblico È l'esatto opposto Cioè Non vedo l'ora È più quello Telegioralistico Di cui parlavamo prima Cioè Se uno mi sbatte Il mostro lì Allora Mi ci fiondo contro O a favore O contro Nel senso Mi ci fiondo sopra Con tutta la mia forza Perché però Non punti A quel pubblico Che potrebbe In realtà A essere molto interattivo Con te Mi sembra Che su Facebook Ci sia Un accanimento Verso tutto Ok Verso tutto Per cui Io posso Scrivere un racconto O il contrario Dello stesso racconto Avrò sempre Qualcuno Cioè qualcuno Avrò sempre molti Che ne sapranno Molto più di me Che mi insegneranno A fare A vivere Sì A me è questo Al di là Che i consigli Certo Se mi arrivasse Qualche consiglio Di qualche scrittore Qualche critica Anche Aspra Non vedo l'ora Non vedo l'ora Perché Altrimenti Non si cresce mai I complimenti Non sempre fanno bene O sempre e solo Complimenti Non fanno bene Anzi Fanno in modo che ti siedi E dici Oh sono bravissimo Esatto Stai in panciolle Così Però avere Magari Un pubblico Che non ha Alcuna competenza Perché magari Più del quattro ruote Non ha letto Che venga a dirmi Cose Che non stanno Nen cielo Nen terra Tipo Mi è capitato Su Instagram Questo Ma non si dice Crede Si dice Credette Studia la grammatica Oppure con Con anche la morale Alla fine Sì E io gli ho risposto Si dice In tutti i due i modi Guarda il vocabolario O se non sai cos'è Wikipedia Se non sai cos'è il vocabolario Esatto Cos'è il vocabolario Guarda Wikipedia E gli ho fatto lo screenshot E glielo ho mandato Ma perché perdi tempo Pure a fargli lo screenshot Perché le capre Vanno decaprizzate No E questo è il punto Certe capre Non vogliono essere decaprizzate Vabbè ma almeno Nei commenti Si vede che tu sei capre Io ti ho corretto E c'erano tante faccine Ah 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 E là insomma Purtroppo Delle piccole soddisfazioni Però Io parlo di chi Ti viene Nei Nei DM A criticarti E dire Eh perché Cioè io Li lascerei perdere Proprio direttamente Perché Non Non meritano Tempo Quelli che vogliono Cercare erogne Lo fanno Per Per avere Una tua reazione Ok Quindi Cioè Li lascerei a bocca asciutta Più che altro Ma qui cito Un mio caro amico Stefano Carena Con cui Posso Posso dirlo Ci mancherebbe altro Collaboro Non è mio amico Ci tengo a dirlo Ah sì Immagino Qui abbiamo aperto Un canale YouTube Da poco Chat Noir 1937 Sono audio racconti Bellissimo E Lui una volta Mi ha Mi ha detto Sì ma io Mi nutro di guerra E questa E questa frase È bellissima ragazzi Quindi Io non lascio Perché devo lasciare perdere Cioè tu sei capra Io no E devo Lasciarti perdere No In un mondo Che funziona Chi è capra Ascolta chissà È l'ascolta Che manca Secondo me Ma allora Allora Arriviamo a dire Che è sbagliato Che non tutti Hanno diritto Di opinione E su questo Su questo E quindi censura E quindi si ritorna Alla censura Quindi non c'è libertà Sì poi diventerebbe Una censura preventiva Addirittura Cioè follemente preventiva E quindi è tutto sbagliato Quindi io non lascio perdere Perché se tu Hai il mio pari diritto Come il paragone Che si faceva prima Mostro umano Ok Se tu hai il mio pari diritto Io ho il pari diritto Di rispondere Non devo difendere Quello che ho scritto Perché se uno mi scrive Ragazzo Datti all'ipica Non scrivere mai più Il mio Il mio commento sarà Perché Virgola Fammi crescere Certo Argomenta Ma non perché È una risposta di default Perché mi interessa Certo Perché mi interessa Cioè io Non posso Come dicevo prima Vivere solo di Che bravo Che bello Ipnotico Magnetico Che ovviamente Dà una soddisfazione Pazzesca Perché non ci nascondiamo Insomma Certo Staticamente Quella frase Mi piace di più Con il crede Uso crede Perché Scrittura E anche musica E direi E quindi Rispondo E non ti lascio perdere Ok Io trovo Che quello Che tu Stai dicendo Sia il senso Il senso del lavoro Che stiamo facendo Cioè tu Dal punto di vista Autoriale Ari da un punto di vista Grafico E polignare Da un punto di vista Editoriale Perché se no Si tratterebbe di Continuamente Fare qualcosa Soltanto Per strizzare l'occhio A un pubblico Generalista A me non interessa Ma non deve interessare A nessuno L'arte Come dicevi prima tu È qualcosa È qualcosa D'altro È qualcosa Che deve Separarsi Ispirarsi E ispirare Punto Cioè Poi Tante persone Chiaramente Se domani Di fronte a casa mia Mi trovo 20 milioni di fan Non è che mi faccia schifo Ragazzi Vorrei che fosse chiaro Anche questo Certo Però giustamente Non sei disposto A dire Vabbè Allora ascolta Iniziamo a fare delle cose Appunto qualunquiste Che definisco dopo Horror Semplicemente come etichetta Non perché realmente Io tendo appunto A far Drizzare il pelo Alle persone Perché in realtà È quello il mio obiettivo E perché Poi far drizzare il pelo Anche a me No ma Scrive una roba Il gatto è stato schiacciato Dalla macchina Ah Per me è horror E magari qualcuno Anche condividerà Questa opinione Soprattutto laddove Non ha Un background Di conoscenza horror Per cui sa dire Questo per esempio Questo film horror È horror Questo qui è uno splatter Questo qui è Beh riuscito Cioè Non tutti devono avere Ovviamente 40 anni Ma ci sono anche Molto giovani Che però hanno tanta passione Tanto interesse Quindi L'arte va fatta Sia per un pubblico Ma può essere un pubblico Di una persona Però C'è anche da dire Che Per fare arte Ci vuole la palestra Sì Perché io che non sono Ferrato Disegno Per dire Sono veramente Non mi definisco nemmeno Perché è impossibile Definirmi Disegni con le parole tu Diciamo Sì Se dovessi disegnare Potrei fare solo Emoti con fatti male Mettiamola così Però l'allenamento C'è C'è il documentarsi Prima di scrivere qualcosa Certo Perché ovviamente Se io scrivo Che ne so Che un aereo Va ad alcol Ho sbagliato Giusto Bisogna documentarsi Va a prosecco Va a prosecco Ma Givaldo Biadene Significamente provato Non prosecco qualunque Poi Devo io come scrittore Leggere tanto Altri autori Che non parlano solo di horror Perché Era l'aereo ad alcol Era l'aereo ad alcol Era l'aereo ad alcol Che è passato Il famoso aereo prosecco Sponsored by Dicevo Devo leggere tanto Non solo horror Chiaramente Devo leggere di tutto Perché Se io volessi scrivere Non un racconto breve Ma un romanzo Devo saper descrivere Oltre Che con la mia esperienza Nel modo in cui Hanno scritto altri E poi farlo mio Degli spaccati domestici Per esempio Certo Una gita al parco Certo Dei dialoghi Sì anche per creare Un ritmo narrativo Perché se tutto Se tutto Tra virgolette Ogni parola È finalizzata Allo spaventarti Dopo il primo capitolo Basta Cioè Non c'è ritmo Chiunque ha letto Un romanzo horror Avrà Cioè Insomma Non è che Si comincia Con la parola sangue Poi Che ne so Spade Teschi Cervelli Rotti Sangue Finito Ottimo C'è una Insomma C'è Un romanzo Tu ripercorri Un lungo Spaccato di vita Di persone Che Esistono Nella tua testa Ok Però Esistono Cioè loro Io quando scrivo Sento lo scalpitare Dei personaggi Se non scrivo Non è che loro stanno buoni lì Mi rompono le scatole Vogliono vivere la loro porzione Di vita Per farlo Per rispettarli Per farglielo fare al meglio Io ho dovuto prima Leggere tanto Scrivere tanto Trovare il mio modo Di esprimermi Che non Sì Secondo me È necessario Non semplicemente per dire Oh questa è la mia firma Certo Ovviamente no Certo Ma perché Bisogna essere Stare comodi Nei propri vestiti E poi Scrivere Scrivere Certo Esercizio Ecco perché dico Che non Ci si può improvvisare Ma nemmeno a Dire opinioni Di un certo tipo Perché Ok Se stiamo parlando Di culinaria Anche lì Se tu metti un piatto Cucina Vabbè anche cucina No 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 Era per Twitch Che lo dicevo Ah perché culinaria Vabbè Era culinaria È goliardico Ah Culinaria Esatto Scritto col però Esatto Ah Sono le persone Anche là Posti Posti il tuo piatto Di risotto Con radicchio E salsiccia Ah ma io avrei fatto Basta Perché la ricetta originale Quella vera Che è fatta da mia nonna Non dalla tua Dalla mia Ecco È ovvio E poi mi dicono Perché Scrivi racconti ore E torturi le persone Secondo te Secondo te Hai delle vite Sulla coscienza Sì Però Sussistenti Non esistenti Esatto E questo tipo Di Di genere Avendo a che fare Molto spesso Con eventi Forti Con Un certo tipo Di emozioni Con Cose che quindi Suscitano Cose abbastanza pesanti Ha anche un effetto Quasi terapeutico Per te Può avere un effetto D'impatto Che poi Dopo aver finito Di scrivere Un certo tipo di storia Come se ti liberasse Di alcune Non so Questo mi succede Di più Con le poesie Le poesie Le poesie le vivo Che non sono Sempre horror Insomma Ho scritto anche Le poesie horror Però Questo mi succede Sì Con i versi Ok Perché C'è più Butto fuori Ciò che sono Ma non devo rendere conto A nessuno Cioè Un personaggio Devi farlo vivere In modo vero Sì 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 Uno non può Fare delle cose Che Non so Come spiegarmi bene Un personaggio Deve essere come noi Cioè tu devi sentirti Quel personaggio Certo Per cui non può Spararsi e poi Essere vivo Ok Sarebbe un errore A meno che uno sei Michael Myers Fanno di tutto E tu risusciti sempre Di conseguenza Non dovendo rendere conto A nessuno Delle Delle emozioni Non dovendo Renderle Verosimili Sì Scrivo Quello che sento Ecco che Viene fuori Proprio lo sfogo Certo Ma da questo punto Scusami Fede Avevi qualcosa No Andato vorrei chiederti una cosa Perché vorrei un attimo Riportare a questa dimensione Tutto quello che ci siamo detti Nell'ultima ora dell'horror Sì Sul nostro testo in questione Che è 52 shot Quindi ma Fede ti posso chiedere Gentilmente Se riesci ad aprire la pagina Del crowdfunding Sì Così da condividere E la commentiamo un pochettino Tutti quanti insieme Perché è 52 shot In tutto questo Credo che sia anche Una specie di esercizio Di stile da parte tua Perché darsi Un'argine così forte 1985 battute Diciamo che il tempo di lettura Sarà un minutino È cribbio Non è banale E poi vabbè Se c'è una lettura interpretata Come quella di Iacono Nel trailer Che alla fine Se vi va Lo facciamo anche rivedere Allora diventano tre minuti Però C'è una Lì c'è scuola Lì c'è scuola Lì c'è scuola Lì c'è scuola Vegetta non si tocca Allora state vedendo In questo momento La copertina La copertina Del libro Che appunto Ari e Mattia Stanno andando a disegnare Ari Prima tu parlavi Degli shot Giustamente Come Come Shottino Da bar Anche come proiettile E poi c'è questo effetto Neon Eccetera Quindi la copertina Questi cubotti Cosa sono? Sono Allora Mi sono ispirata Aspetta Torna Torna un po' in su Mi sono ispirata A Una Un collezionismo Che sta andando molto In questi anni Parallelo Al collezionismo Classico Delle opere d'arte Che si chiama Cabinets of Curiosities Che è Specificato Che è proprio Per La nicchia horror Perché Cabinets of Curiosities Significa Armadio Di curiosità E quindi Ritrae un sacco Di reperti Di Artefatti Oppure di oggetti Di uso comune Che Col tempo Si sono Deteriorati Come il caccio Si dice Deteriorati E che hanno Assunto questo aspetto Vintage Un po' horror E spesso Hanno anche Delle Degli oggetti Anche Proprio horror Come un teschio Oppure Vanno a Collezionare Reperti Che Sono Delle Deformazioni Di animali E quindi Mi sono ispirata A questo Perché Si perché Gli shot Li ho voluti Ritrarre In più Piani E quindi In più scaffali Però ho detto Perché Metterci soltanto Dei drink Degli shot Se poi Si parla anche Di horror E quindi Ho fatto Un cabinet Of curiosities Tutto mio Con sia Gli shot Sugli scaffali Sia Con questo misto Di reperti Artefatti E pozioni Strane Atomico Atomico E da questo Punto di vista 52 Perché 52 shot Mati 52 Sono Le settimane All'interno Di un anno Il gioco Sarebbe Di leggere Un racconto A settimana Così Che il libro Ti tenga compagnia Un anno intero Certo Curiosissimo Che poi Com'è che si sviluppa Quindi la narrazione La questione dell'anno Sarebbe Per chi Sta adesso Facendo Sta donando E quindi Riceverai in anteprima Il libro E poi dopo Vediamo anche Tutti i premi Quelli che sono Sarebbe Una scansione Di un certo tipo Sì Sarebbe Simpatico O meglio Il libro Secondo me Verrebbe goduto Di più Se Si cominciasse A leggerlo La prima settimana Dell'anno Non perché I racconti Si richiamino L'un l'altro Sono universi Narrativi Diversi Tutti quanti Anche se c'è Qualche elemento Che ritorna Tipo un club Perché Uno dei racconti Appunto Passa per questo Club noir Ma Mi è stato Troppo simpatico Per cui Penso che Lo riutilizzerò Un po' più avanti Per far succedere Altre cose E' vero Che Oltre A stare A questo Patto Chiamiamolo La cosa Interessante È che Ogni racconto È Posizionato In quella Settimana Lì Perché Anch'io Che lo sto Scrivendo Ho Le sensazioni Esterne Di freddo Di pioggia Poi Di sole Che saranno Inconscie Nella mia scrittura E inconscie Per chi legge Per cui Se io non dico Che fuori c'è la neve Ma tu stai leggendo Il racconto numero 3 Che sarà a gennaio Ok Quanto meno fa freddo Quanto meno Anche Anche se tu sei a casa Ma Fuori è freddo Quindi nelle ossa Certo C'è Oppure vedi in televisione Un film Con la neve Piuttosto che un telegiornale Che dice Sta nevicando Quando Quando hanno Ma ho perso l'aereo Per esempio Quando hanno buttato fuori Lo squalo La prima volta Certe proiezioni Sono state fatte In piscina Ecco che Gli avventori Entravano nella piscina E si vedevano Per la prima volta Lo squalo E quindi L'ambientazione esterna Reale Ho preso spunto Anche da qui L'ambientazione esterna Reale Secondo me Dà quella Quarta dimensione A Un libro Per immetterti Proprio Il più plausibilmente Possibile In quell'universo Narrativo Certo Poi ho parlato Di quarta dimensione Perché in realtà Ovviamente ce ne sono Quattro Quindi ne mancano tre Da dire Una chiaramente È la scrittura Ma è quella Che arriva Alla fine Perché Quando si entra Nell'universo narrativo Di ogni Di ogni racconto Sul subito Si ha a che fare Con il disegno diario Esatto Che come ha spiegato Ci porta Nel mood Ci porta Nella Nella casa In cui avviene Ci fa vedere Un particolare Che poi io Non spiegherò Dato anche il discorso Di prima Della brevità Del racconto E quindi Abbiamo Come primo Come primo Come prima porta C'è il disegno Poi C'è la musica Ogni Il titolo di ogni racconto È il titolo di una canzone Come nei film Cambiando la musica Cambia anche il film Per far entrare Il lettore In questo universo Serve anche la musica Serve il mood giusto Per approcciare Alla scrittura E poi ovviamente C'è La scrittura C'è La scrittura Quella come ultima Che è l'universo Il nocciolo proprio Certo E tu invece Corrado Secondo te Qual è stata La cosa più importante Che hai dovuto fare Per unire Queste due cose Quindi unire L'aspetto grafico E l'aspetto narrativo Dal punto di vista Editoriale Sì Già Saturnia E siamo già stati In questa sede Insomma per parlare Dei racconti Della vera nuova carne Quindi insomma È già Diciamo Una linea Editoriale Di collana Il rapporto Fra immagine E testo Che deve essere Simbiotico Nel caso Dei racconti Della vera nuova carne È stata C'è stato Un meccanismo Che noi stiamo Qui riprendere Qui invece C'è un altro Che non spoileriamo Per adesso Abbiamo molti mesi Davanti per questo crowdfunding Quindi mano a mano Avremo modo di narrare Gli giocamenti Arriveranno Arriveranno A mano a mano Quindi in realtà L'impianto Orrorifico Tra immagine È testo È testo È cruciale È cruciale Nella maniera in cui Il disegno Come tu giustamente Dicevi prima Mattia Crea l'ambiente E anche l'impaginazione Di tutta la collana Funziona proprio in tal senso Cioè che io possa aprire L'inizio di capitolo E mi trovo sempre Completamente immerso All'interno dell'immagine Oppure C'è del nero a fronte E l'immagine a destra Così che io Tra l'altro L'occhio vuole Che quando uno sfoglia Nella pagina Si vede prima La pagina a destra Che non quella a sinistra Quindi una gettata di nero Un ambiente cupo Sulla sinistra E sulla destra Invece l'immagine Mi cimmerco Senza testi Senza niente Non c'è nulla Giro È dentro Dentro la narrazione Facendo questa maniera qui Sicuramente lavoreremo Man mano Anche in tal senso Con 52 shot C'è un altro elemento Che appunto È quello musicale Quindi si troverà Il modo grafico Per rendere tutto Il più coordinato possibile Perché l'esperienza Grafica Il tipo La tipografia La tipos Il carattere Non è semplicemente Un carattere Testuale Grafico Ma è anche un carattere Emotivo Che deve essere espresso Attraverso L'impaginazione Di un libro Spesso questa cosa qui Non c'è Non c'è Se non magari Nei libri d'arte Oppure insomma Cataloghi abbastanza specifici E invece Noi è una cosa Su cui puntiamo Tantissimo Per esempio Il lavoro del neon Sulla copertina È un lavoro Importante Sia per il concetto Di shot Quindi di bar In questo senso Che lo sfondo scuro Che Aria ha costruito Crea una frizione Grafica Molto forte Molto molto forte Dove c'è appunto Un ambiente Di morte Diciamo così Sullo sfondo Ma poi c'è un neon Il neon Tra l'altro È un neon fucsia Perché dobbiamo farlo Anche verde Però in realtà Richiama un pochettino L'ambiente estetico Di Mattia Cioè questo Candyblood Ha un suo hashtag Che è Candyblood Quindi Che evoca A me Nella mia testa Mi evoca Tipo una pin-up Anni 50 Però in forma di zombie Ecco È un po' questo C'è un po' il candy Però poi c'è il sangue E c'è l'horror Quindi ecco Da un punto di vista editoriale Questo libro si inserisce Perfettamente All'interno di Saturnia E Vabbè Mattia Sta lavorando già Anche ad altro Ma adesso non ne parliamo E infatti abbiamo scelto Anche il lancio quando? Il 13 febbraio L'abbiamo scelto a caso In realtà volevamo già farlo Due settimane fa Poi però ci siamo un attimo Fermati Aspetta Scegliamo un giorno Che sia significativo Scegliamo un momento Anche per dare Poi dopo il tempo Appunto Da mano a mano Di andare Di continuare questo lavoro qui Perché appunto Abbiamo cominciato Di racconti già ci sono Delle immagini già ci sono Ma non c'è tutto quanto Le diamo almeno Un paio di giorni Per fare 52 grafiche Ma come? Aspettate Io pensavo fino a lunedì No come fino a lunedì Ma scusa Visto il ritmo Con cui sto disegnando Questo disegno Mi sembra Brausibile Ma guarda Allora Ti chiederei Torniamo alla pagina Del prodotto Sì Così che Così che guardiamo Insieme ad uno o due Cosa vuoi vedere? Del crowdfunding Crowdfunding Questo qui No questo qui è l'articolo Questo qui è il comunicato stampa Torniamo alla pagina Eccolo qua Allora come potete vedere Nella parte alta Torniamo pure in cima Abbiamo Chiaramente il titolo Ci sono i giorni Che mancano Poi dopo c'è Posso donare un bitcoin? Puoi donare quello che vuoi Un bitcoin Allora adesso vedete Che l'andamento È ancora zero Perché chiaramente Ogni totto Si aggiorna E quindi insomma Abbiamo già raccolto Dei fondi Vi ringraziamo Continuate 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 Oppure si può fare Una donazione libera Perché cosa vuol dire? Noi abbiamo creato Dei premi Che sono otto step Che adesso andiamo a vedere Però se una persona Volesse donare Un apprezzo Che vuole Lui o lei Superiore Insomma Qualunque cifra Anche magari simbolica Può farlo con donazione libera Infatti quando tu ci hai Premuto sopra Ti si è aperto L'account paypal Subito dopo Troviamo il trailer Che come dicevo Dopo andiamo a rivedere E prossimamente Troverete anche Nel buco di destra Una breve presentazione Del progetto Fatta proprio da Da Ari e Mattia Ma cominciamo con il livello 1 Aperlo pure Amico mio Amico caro Amico caro Questo qua Eccolo qua Malibu Lips Sono 5 euro 5 euro Cos'è che una persona Può avere Scusami Te lo dico subito Dopo puoi navigare In alto a destra Vedi che c'è scritto avanti Sì Ecco perfetto Vai direttamente Questo qua Livello 2 Livello 1 Malibu Lips 5 euro Si ha il volume In formato digitale Quindi Il libro In formato ebook Tranquillamente Tranquillamente consultabile Tutto alla sua interezza E qualità Insomma consultazione Ok Quindi molto molto facile Andiamo pure a livello 2 Whisky on the glocks Allora Intanto Mattia ti vado a spendere Due parole Sui titoli Dei livelli Perché Credo che siano Fantastici È una delle cose Che mi piace più fare Cioè rendere Un po' Buffo l'horror Anche il concetto Di candy blood Prima E mi piacciono tanto Le assonanze Tra frasi fatte E frasi nuove Quindi Whisky on the glocks Whisky on the rocks Solo che le glocks Sono le pistole Mi piaceva Questa assonanza E cos'è che abbiamo Con il livello 2 Abbiamo Il libro cartaceo Niente di meno Che firmato Da me medesimo E da Ari Esattamente Vedo anche una terza firma No deve essere È nome e cognome Ah ok È che sono simili Perché sono simili Ecco lo dobbiamo fare È un pentacolo in realtà È come se io mi chiamassi Aleardo Aleardi Bello Livello 3 Next step Ah questo qui Sia con 15 euro Quindi con 15 euro Ecco si può avere Il libro In formato fisico Anticipiamo che Tutte le spedizioni Sono comprese Nel prezzo Quindi non c'è da pagare Nulla In più Avanti Eccolo qua Skin and Jean Skin and Jean È una bella Rima Per cui Sono stato allettato Troppo Da questa cosa qui E Si ha Tutto ciò Che si ha Nel livello precedente Più Niente di meno che Un racconto Extra E una cartolina Disegnata Dalle Cattivissime Dita di Ari Infatti C'è quel punto interrogativo Non a caso Perché il punto interrogativo Sarà un racconto Appunto che noi sceglieremo Ah non è quello il disegno No Anzi no scusate Non è un punto interrogativo Vuoi criticare l'arte Non ho mica capito No infatti scusa Shame Fede Quindi su fronte ci sarà il racconto Su fronte ci sarà il disegno Il disegno di Ari Chiaramente più Come si può vedere dall'immagine Il volume cartaceo Autografato Next Vodka tongue Eh la vodka torna In qualche raccontino Che ho scritto Quindi non potevano Non metterlo qui Beh non ci dispiace per niente No no Insomma la vodka A patto che sia absolute Va bene Ma Dipende I miei personaggi Solitamente Amano le cose Quelle da pochi soldi Quelle che fanno male Allo stomaco Quando le bevi Termine scientifico Scrause Quelle che il giorno dopo Stai male Perché altrimenti Non ha senso Averle bevute Perché se sto bene Non ho nessun ricordo Di ciò che ho fatto Hai ragione Magari sono tipo quella La fragola da 2 euro A bottiglia Grazie che ricordi Che ricordi hai Ricordi del liceo E fatto che tu ce li abbia ancora Vuol dire che non hai bevuto abbastanza Era più che altro I cocktail proprio tropicali Tipo Coca Malibu Oppure Coca Malibu Sì Mi ha fatto venire un brivido Lungo la schiena Era un Malibu cola Sì che tipo Era il cocco Però con la Coca Cola Madonna che schifo E poi la vodka Alla fragola Era un altro Quindi a basso di shot Di alcol Bevete di questi racconti oro Esatto Livello 5 Fede Bourbonize Bourbonize Adesso io li ho imparati Fino al 4 Ah no scusami Torno indietro Scusami il 4 Non mi sono dimenticato Una cosa del 4 C'è il poster C'è il poster Disegnato C'è l'anguilla di Comecchio Sempre Disegnato sempre Dalle affilate Cattivissime Dita di Ari 5 Diciamo allora Man mano che andiamo avanti Non dimenticate quello di prima Perché nel senso Non è che Cioè Ogni step Comprende tutto il precedente Più una cosa Ah ok È cumulativo il discorso È cumulativo Livello 5 Livello 5 Allora abbiamo Come diciamo Libro Autografato Raccontino Cartolina Poster E poi vai giù Matti Perché Sì Matti scusami Fede Eccoci qua Ti do un suggerimento T-shirt T-shirt È che da qui infatti Non vedevo la grafica C'è una bella magliettina Torniamo pure su Che è nera In questo caso Penso che faremo Le doppie versioni C'è la magliettina Appunto nera Con Ah grazie Oh Grazie regia Per avermi aiutato Nella visione Che sono un po' cieco Evidentemente Andiamo La t-shirt Aveva una maglietta Con il logo 52 Shot È sempre L'anguilla di Comacchio È sempre L'anguilla di Comacchio Che è buona L'anguilla non manca mai Livello 6 Propagno di rizzare pali Maglietta E poi dopo L'occasione di entrare Dentro Il libro Quindi il tuo nome Cioè la tua personalità Perché il nome È la persona Di entrare dentro Un racconto Qui però Cominciamo ad avere Delle limitazioni Perché non è Più in maniera Illimitata Pensi Cominciamo ad avere Esattamente Dei posti A disposizione Perché sennò Personaggi Sono limitati Sennò dobbiamo fare Tipo 150 Cioè le mille Una notte Cioè il limitato Forse è nata così Le mille Con crowdfunding Il primo crowdfunding Meraviglioso Ma questi 25 posti Sono contingentati Oppure no? Quindi in realtà Sono 12 e mezzo O sono proprio 25? Sicuramente Niente assembramenti Nei racconti E neanche nelle immagini In realtà abbiamo Come no? Ci sono tanti assembramenti Nei racconti Abbiamo 50 Di pezzi In realtà abbiamo 50 posti Disponibili e solo 25 Ok perfetto Sono già contingenti Sono già contingentati Sì 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 Settimo livello Andiamo sempre più su Sempre più su Questo è proprio Super Saiyan Quasi Quasi Non soltanto sei dentro Il racconto Ma Sei visivamente Dentro il racconto Esattamente Con un ritratto Fatto Come sempre Dalle dita affilatissime Cattivissime di Ari E come dice Mr. Bok E' effettivamente Praticamente un piccolo Patreon dell'horror Fighissimo Esatto Sì di fatto sì Di fatto sì Però c'è un livello Nascosto in cui lo esco Perché altrimenti Perché non è Patreon Cos'è che dici? Il racconto Lo esco è quello Il racconto Il racconto lo esce Il racconto Io devo far rizzare i peli Stiamo parlando del racconto Twitch Tranquilli Sì sì Si dissociano tutti Tranquillo vecchio Anche qui però Non è che abbiamo posti illimitati Qui abbiamo sette posti A dire il vero Per questo target Ari ci spieghi perché? Allora spiego perché Perché naturalmente Io ho bisogno di tempo Per poter fare i ritratti Insomma 52 disegni più Sì no Non è che sia in più Sono all'interno Delle 52 illustrazioni Però naturalmente Se si vuole Che la pubblicazione Esca effettivamente in autunno Non posso offrire Più di sette posti E poi sette È il numero magico Di Harry Potter Quindi Cittazione al trono del muore Anche perché Anche perché Forse non abbiamo ancora detto Come funziona Il lavoro Che stiamo facendo Cioè Io Scrivo il racconto Lei lo interpreta Poi si sceglie la musica Che sarebbe opportuno Secondo me Ascoltare Mentre si vede Il disegno E quindi Le tempistiche Si allungano Perché se io non ho ispirazione Che facciamo It's a problem No ma ce l'ho sempre C'è sempre Qualche hater Che mi offende Che vorrei fargli di tutto Esatto È un ciclo vizioso Questo qua Devi farti odiare Per poter scrivere Cavolo sì Fantastico Cavolo sì Ottimo Ottavo E ultimo livello C'è un posto Questa cosa qui Credo che sia Estremamente bella La possibilità Di essere a detratti In copertina Quasi quasi lo comprerei Esatto Quindi in uno dei cubotti Che verrà oscurato Adesso c'è la copertina Provvisoria Che ho voluto riempire Con tutti gli elementi Del cabinet of curiosities E con shot Eccetera Però in uno degli slot Ci sarà La faccia Dell'acquirente Insomma Quindi ci sarà Una persona Ringraziamo Rick Per aver comprato L'ottavo livello Grazie Grazie Rick Applauso Grazie Così almeno Avremo la faccia di Rick Perfetto Check out Grande Grande fede Il paypal è connesso Al vostro Quindi va benissimo È il suo Perfetto Adesso arriva Rick No E poi scoprì Che in realtà Era il mio No Vabbè Ritrarremo a te Esatto Mi dispiace Ci dispiace per il gente Che dovrà vedere Questa copertina Ma andiamo avanti No non si può più Andare avanti No infatti Andiamo avanti Nel senso del discorso Quindi questi qua Sono gli otto livelli Otto livelli Per poter appunto Contribuire Alla produzione Di questo Di questo Di questo libro E fino al raggiungimento Di 5.000 euro Massimo Insomma si può andare Anche oltre ovviamente Però Dici Se volete Se volete Si può anche fare In donazione unica Quindi con donazione libera Fate 5.000 Abbiamo risolto il problema Cosa si farà però Con questi soldi qua Ovviamente Oltre al lavoro Dei due artisti Si va in Messico Però solo andata Perché non Insomma Vuoi tornare Dici Che forse Da autori Diventiamo vittime È solo che costa No no È solo che costa E chiaramente Dopo si potrà produrre Insieme Il volume E quant'altro Quindi torniamo pure Alla pagina Le crowdfunding Quella Quella generale Ah ok va bene E poi Ti chiederei Di far partire Gentilmente di nuovo Il trailer Perché secondo me Vale la pena Per chi magari Non l'avessi ancora visto Esatto all'inizio Quindi C'è la voce di Iacono Di Gianluca Iacono Ok Allora dovete Lasciarmi un secondo Perché lo devo riprendere No fede inaccettabile No perché Corrado Ha già fatto la presentazione Ah si Gianluca Iacono Allora ve lo metto qua Yes E per chi si l'è perso Ve lo faccio rivedere Molti anni fa Su questa spiaggia Trovai i sei sassolini Che sto per lasciare Dentro a una scatolina rossa Cercala Ti conviene Non sono comuni sassi Hanno la forma di una goccia Tutti della stessa grandezza E peso Differiscono solo per il colore In successione cromatica Rappresentano l'arcobaleno Manca solo l'indaco Li trovai sopra uno di quegli scogli Come se qualcuno li avesse dimenticati Ancora non sapevo Mi incantai a guardarli Erano meravigliosi Un miracolo della natura Lo racconterò a tutti i miei compagni di classe Pensai subito Sentii la voce di mia madre Che chiamava dall'ombrellone E in quel momento Mi fermò un vecchio Che stava pescando qualche scoglio più in là Mi sorrise E chiuse la mia mano con la sua Parlò sottovoce Ti porteranno fortuna Se non dirai mai a nessuno di averli Mai Mi sorrise di nuovo Sono ancora convinto che sia stato lui a lasciarmeli Quando tornai a casa dalle vacanze Riposi i sassolini nel mio salvadanaio Mantenni il segreto Vent'anni dopo Ero al verde Un artista fallito Come chitarrista non volevo una cicca L'unica alternativa al morire di fame Era a lavorare in fabbrica Sempre se qualcuno mi avesse assunto E solo l'idea mi dava il vomito Un giorno andai a trovare mia madre Dopo l'ennesimo colloquio di lavoro andato male Bisognoso di un abbraccio Mi sovvenne il vecchio pescatore Corsi in camera mia Il salvadanaio era ancora lì Al suo posto L'Uruppi Tra i cocci Spuntarono i sassolini Tornai alla spiaggia Senza sapere cosa fare Li disposi in ordine E alzai gli occhi al cielo Un'idea plausibile Il colore mancante Era sempre stato sopra di me Tornai attento sui sassi Le punte indicavano il promontorio a nord Notai una croce Da quel giorno La mia vita cambiò Tuttavia Ora è giusto che la fortuna Abbracci qualcun altro Bisogna essere coraggiosi però C'è un teschio Alla base della croce Realizzerà tutti i tuoi sogni Ma ti chiederà qualcosa in cambio A me Chiese un indice E ci siamo Adesso dico una piccola cosa Anzi prima Facciamo una domandina Lasciamo pure il QR code Magari Vabbè Guardiamoci Il Rick nudo Che bello Volevo fare una domandina Alla Alla chat Anzi ti chiedo Ti apri il video Sì Nella parte in cui compare il neon Quindi è proprio la fine Fallo sentire un paio di volte Se puoi E vediamo Chi di voi Indovina Da dove abbiamo preso Quell'audio lì A costo anche di ricevere una querela Quindi di che cosa Non so perché adesso Si è chiuso Il coso qua Il player Perché giustamente Ieri Rick Si è vantato di avere Un Windows super figo Bla 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 Gne 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 Quindi oggi giustamente Non funziona più Sì esatto Ma sono È il bello della diretta No perché Cos'è che volevi far notare L'audio E il neon Si accende alla fine Quindi il neon del titolo Non l'ho detto a nessuno Vediamo se È perso da Yotobi No 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 Andiamo pure Quindi verso la fine Ecco Prima 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 Quando finisce proprio il racconto Sì che c'è Il sfarfallio C'è il suolo Vediamo un po' Se qualcuno lo riconosce Ve lo faccio vedere Perché non lo farò Così in esagerato Aspetta Devo attivare anche l'audio Vai Solo Ci siamo? Sì Solo il suono del neon Mattia Vediamo un po' Niente Hai? Eh io ho provato Quello di Yotobi Però no Yotobi Fede Ti viene in mente qualcosa? Che adesso avevo anche le cuffie Ho sentito poco È come dire Come andò Giovanni e Giacomo Giacomo Ehi no Ci ho lasciato Ci sento troppo No io ho sentito il rumore del neon Sì esatto Quello Quel neon lì L'ho preso da dove? Io Prano musicale molto Uno dei più grandi Compositori di musica Ambiente elettronica Forse l'inventore addirittura Da musica Ambiente elettronica No allora non mi ricordo Affects Twin Ah ok Affects Twin Video Rubber Johnny Wow Quindi uno dei più inquietanti Che siano mai stati pensati Regia di Chris Cunningham Folle Andatevelo a vedere su YouTube Il video completo Non credo che possiamo farlo vedere qui No no Andatevelo a vedere È devastante E il video musicale Cioè quella parte lì In realtà fa già parte Della composizione Di Affects Twin Perché lui appunto In quanto diciamo Praticamente inventore Della musica ambiente E anche ispirandosi Secondo me un po' John Cage Prende i suoni Della realtà Però quegli elettronici Lui E ne crea una partitura E c'è proprio il video Che comincia Tolto via La parte introduttiva Con Questo neon Che si accende E quando l'abbiamo usato Deve essere lui Deve prenderlo Quindi sono quelle piccole Che quel piccolo Fan Fan facts Ecco In chat stanno dicendo qualcosa Non c'è nessuno Ari Non c'è nessuno No Mi sembra che diceva Il club è pirata Di Barbascura E pensavano che fosse Brian Eno No Però Poteva starci Poteva starci Poteva starci No 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 Affects Twin Abbiamo Abemus Affects Twin Intanto qua il disegno Sta andando avanti Ecco esatto Vogliamo un attimo Infatti avere un news Da Ari Ari Dica Come sta andando Vediamo un po' insieme Allora io ho fatto Un po' di livelli Allora Ripercorriamo Ha fatto un po' di livelli Di Super Mario Esatto Allora questo era lo sketch iniziale Giusto per avere l'impostazione Di come Gestirmi L'illustrazione Illustrazione Sì io sto utilizzando Lo stesso metodo Per tutte le illustrazioni Che è un modo Per me Per avere una coesione Con le illustrazioni Che andrò a fare Anche dei racconti Che mi passerà In futuro Mattia Perché è Il modo più semplice Per mantenere Uno stile E tenerlo fisso Per tutte le illustrazioni E quindi evitare Che un'illustrazione Magari Si percepisca Come fuori posto Per Per il tratto Per i soggetti Invece Essendo che Penso che I soggetti Saranno Molto variegati Fra loro Perché per adesso Ho fatto Un paesaggio Ho fatto un ritratto Ho fatto Questa immagine Che è un'inquadratura Sono molto variegati Fra loro Quindi non è Non ha un tema fisso Per mantenere Lo stesso stile Sto utilizzando La matita E i carboncini In modo da poter Restituire Lo stesso stile A ogni immagine Insomma E quindi Costruendola Qui ho usato Il carboncino Per fare un po' Di Luminosità E Ombre Un po' Di Carboncino Per mettere Un po' Di Di terra Di Polvere Intorno Dato che è una cantina E poi adesso Sto aggiungendo Un po' Di dettagli Andrò A sistemarlo Nei prossimi giorni Intanto volevo Mostrarvi L'anteprima Dell'illustrazione Che sto facendo Toppe Toppe C'è una domanda Per Corrado Oh sono emozionato Ti hanno fatto vedere L'omaggio Che ho fatto Per la maratona Dei mila abbonati Di due settimane fa In cui sei presente anche tu Sei venuto molto bene Sono molto soddisfatto È venuto talmente bene Che me l'hanno censurata Io non l'ho mai vista Non l'hai vista? No perché non mi volete bene Dopo te lo faccio vedere Povero Corrado Sei venuto un capolavoro Capolavoro Non ho dubbi 52 minuti di applausi Ci siamo divertiti un sacco Tra la decora live Se io Cazzarola Peccato che hai venuto Rick Poi a rovinare Il nostro momento Sì hai ragione Quanto abbiamo fatto Quattro ore? Abbiamo fatto Dalle tre del mattino Prima caro mio Alle due quaranta Non connessi È vero sì Dalle due quaranta Abbiamo fatto Fino alle sei e mezzo Abbondanti Perché sono dovuto uscire Dallo studio Dal sette Sei cinquanta Abbiamo fatto Allora sì Bellissimo Bellissimo È stato un bel momento E giustamente c'è Rick Che intanto Prende in giro Aria Perché dice Io e Ari Ieri sera Abbiamo iniziato a giocare Insieme a Super Mario 3D World Devo dire che un po' Mi dispiace Non farli in streaming Diventeremo ricchi E Ari nella parte di Todd È un capolavoro Io sono fantastica Io mi facevo Trascinare in giro Prendevo paura Quando comparivano i Goomba Io non sono mai stata Una videogiocatrice da piccola Perché non mi compravano le cose Per videogiocare Quindi era un po' difficile E quindi adesso mi ritrovo A essere super poco coordinata Anche nella realtà In realtà non sono molto È colpa della mancanza Di videogiochi Questi sono i danni Di voi genitori Che non comprate I videogiochi I figli Finisce così Il vostro bambino Non ascoltateli Un artista di fame Non ascoltateli Di fame E ho pure fame Sì infatti Sono belle che le 1 ai 10 Hanno iniziato ad autodigierirmi Potremmo farci un raccontino In live di Succorrado Che viene autodigestato Autodigestione Sì sì Poi questa illustrazione La finirò Il prossimo sabato Dato che Ho l'autorizzazione A fare 4 tavole Qui su Twitch A mostrarveli in anteprima Vero? Sì Mister? Ok Mister Mister Coach Hey coach E quindi Coraggio campione Quindi questa non sarà L'ultima volta In cui mi vedete Lavorare A questo progetto E Vi ricordo Che Ho Il negozio Online Con le mie stampe Dei disegni precedenti Che avete visto E amato Che è punto esclamativo Negozio Quindi per chi vuole Potete andare Là Fantastico Ah scusa Mi pensavo che Intendessi l'altro Scusate Ah beh Poi ci sono anche Le stampe di Poliniani Che sono Le stampe invece Delle illustrazioni Dei racconti Dei racconti Della vera nuova carne Che potete fare Punto esclamativo Stampe Dovrebbe ancora esserci Wow Sì dovrebbe esserci Wow che fighi Altrimenti Super shortcut qua Madosca Top Qua siamo stanchi Di lavorare Dio santo davvero Mi sembra giusto Mi sembra giusto Vorrei pranzare con voi Cioè con il nostro Scegli tu se Complemento di mezzo O di compagnia Oh no Ai posteri Lardo a sentenza Lardo a sentenza Votate Votate Se Mattia vuole Che ci uccida Ma ci mangi Oppure Votate Chi dovrei mangiare Tra codeste persone Effettivamente Non me Io sono Tutta ossa Non ti piacerebbe Bé ma bollite Bollite Semola Semola Che è tuttossa Bellissimo Mi chiamavano Semola da piccolo Sia per dirmi Scema In modo più carino Come vezzeggiativo Sia perché ero Magra come semola Sì Che secondo me L'inseguimento Di semola E del lupo È una delle cose Più belle Mai finata Da Disney No per me invece È semola E merlino Che sono trasformati In scoiattoli Bellissimo Perché ci dice La signora invasiva Che c'è La scoiattola milf C'è la scoiattola milf Questo è il primo caso di milf In televisione Attenzione È vero È vero Di approccio milf Invece a me Mi ricordo che è stato uno Dei miei traumi infantili Cos'era un barracuda Sì Oh zì Il barracuda Oh zì Oh zì Oh zì Kawaii Barracuda Tu dice Ma dove era il barracuda Non era il merlino Buono sushi di barracuda Magari dopo Sì che è stato Quando loro si sono trasformati In pesci In pesci In pesci E mi ricordo Proprio queste Queste inquadrature Dove c'era lui piccolino Sulla superficie C'era il barracuda Gigante È vero Eh vedi Ti ha fatto rizzare i peli E la cosa più bella È che ho scoperto Che ci sono i barracuda In Inghilterra Grazie In Inghilterra Dov'è Barracuda Ambientato in Inghilterra Ah sì è vero Quindi essendo ambientato lì C'è della verità assoluta Caio È un documento Un documentario Caio Caio Quello sì che è veramente Quello era proprio Impagliato Impagliato Esatto Era il chad stupido Caio C'è la canzoncina Di quando sono pesci Che fa su e giù Qua e là Questo mondo Finirà Finirà Questo mondo Sparirà Forse sono io Che me lo ricordo Un po' Era un luccio Era un luccio Vero Il barracuda è di mare Barracuda è di Nemo Barracuda Era di Nemo In Nemo sì Ok Che si mangia tutte le uova È vero Era un luccio Spoiler Era lupo luccio Va beh fa morire Anacleto Che cosa Duccio Che è per me lo uso Impagliato Io impagliato Era il duccio Duccio Combattenti In questo lago Vincere E vabbè Vincere E dissociamoci Esatto Pesci e pesceremo Esatto Beh direi che questa è un attimo A conclusione di l'aria Direi Cioè Doveva andare in questa maniera Ari Con il luccio Con il luccio Di la spada nella roccia Bellissimo Mamma mia Vi mostro Quello sì che è orno Il todo A cui sono arrivata adesso E poi la prossima volta Il prossimo sabato Finiremo questa illustrazione Che ne dite Ma che bello Che ne dite Ci piace Ci piace Ci piace ancora di più Se Se Qualcuno contribuisce Con i crowdfunding Ah certo Intanto vedo Sento Gaia Sento Gaia anche Ridere da di là Ma oltre Oltre Agli applausi Hai anche tipo I soldi Tipo No quello no No ci abbiamo Oh Questo è il treno Ah però Questa è una lunga storia Beh mono Lady mono Quella è la sigla finale Però spegni la sigla finale Questi sono gli applausi Questi sono i grilli E poi basta E Beh quell'altro Esatto Un po' di scara Dopo il diretto di colon Ci stanno entrambe queste Eh sì Ma tanto Io non le imparerò mai Queste Queste Per mi è tutto Eh esatto Mister Mister Bok Mi ha tirato fuori Un'altra perla Il cavaliere che si spolverava I baffi Grandioso Quello che arriva tutto bagnato Dalla pioggia Porto notizie da Londra Ma quello è Eric Dufer Esatto Eric Dufer da vecchio Sì Esatto Bellissimo Ragazzi è stato veramente un piacere Grazie mille Mattia Per essere stato qui Grazie a voi Grazie Grazie mille Corrado Per essere stato Un onore Il quarto Incomodo Incomodo Esatto come sempre Grazie mille a tutti Grazie Ari Che ha fatto un bellissimo disegno in live Per averci raccontato Tutta questa bellissima Grazie a Fede Che come sempre Rimane Il più sfruttato Bello che ti ringrazio da solo Complimenti Pisto che nessuno lo ringrazia Giustamente grazie Fede Esatto Mi raccomando Mi parlo come mio datore di lavoro Lavora Lavora Mi raccomando Abbonatevi Che questo canale Twitch È molto importante Per tutti voi Non è vero Non è vero Ma c'è l'inquadratura La da oggi Ah sì c'è Tranquilla Ari Perfetto Quindi grazie mille A tutti quelli che hanno commentato Che ci hanno seguito E andate a sbirciare il crowdfunding Benissimo E buon appetito Buon appetito E buona giornata a tutti Mangiate chi vi pare e piace E chi vi Bello Mi piace questo motto Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao ciao Ciao